Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia. Vorrei commentare con voi la notizia che secondo me è quella del giorno. Alcuni immigrati sono stati spostati dal centro di Lampedusa con una nave militare della Marina in Albania. Le considerazioni che voglio fare immediatamente sono due sostanzialmente. La prima, la velocità con la quale è stato realizzato il centro di permanenza in Albania. Una velocità importante, sono stati mantenuti gli impegni presi e quindi il governo fa una bella figura. Sicuramente con i suoi cittadini vedremo l'effetto che avrà sull'immigrazione questo centro. Secondo me sarà un deterrente molto importante. L'altro è che la Meloni evidentemente su questa carta dell'immigrazione ha cambiato passo, lo sta cambiando da tempo. Gli sbarchi sono diminuiti in modo importante e con la creazione di questo centro in un paese extra UE dimostra a tutta l'UE che si può fare una politica diversa. D'altronde chi viene spostato da Lampedusa in Albania non è detto che abbia titolo per rimanere nel paese e quindi va valutato velocemente chi ha diritto ad asilo e chi no. Un esempio per tutta l'Europa, penso, quello italiano, importante, e che nel tempo la Meloni ha portato avanti in maniera decisa e assolutamente efficace. Qualche tempo fa avevo criticato la gestione sull'immigrazione. sembrava che non ci fossero risultati concreti. Mi devo ricredere ed è giusto che quando ci sono i fatti ovviamente si faccia anche mea culpa. Mi devo ricredere perché i dati di allora, che erano in forte aumento, derivavano dal fatto che la Meloni avesse appena impostato la sua politica sull'immigrazione. I risultati li vediamo ad oggi, con meno sbarchi rispetto agli anni passati e adesso con l'apertura, come promesso, del centro di permanenza in Albania che darà, a mio giudizio, un significativo apporto alla riduzione degli arrivi. Vedremo se sarà così, voi dite la vostra nei commenti e come al solito ci vediamo domani.